Una buona serata a tutti da Marco. La giornata piuttosto soleggiata di oggi è stata solo una pausa ed infatti un nuovo fronte perturbato proveniente dal nord atlantico è pronto ad invadere il nord Italia dove a partire da domani mattina saranno possibili nevicate fino in pianura con accumule anche importanti al nord ovest. Il maltempo si presenterà dal pomeriggio anche nelle regioni centrali ma il richiamo di aree più umite dai quadranti sud occidentali causerà un aumento della quota neve fino alla media montagna 1200-1500 metri. In Abruzzo giornata inizialmente poco nuvolosa ma con rapida copertura del cielo e prime precipitazioni dal pomeriggio a partire dai settori occidentali in estensione anche a quelli adriatici della sera. Neve a quote di media montagna 1300-1400 metri. La ventilazione in rinforzo da sud ovest forte sui monti e pedemontane debole altrove. Il mare molto mosso. Le temperature minime della notte comprese tra meno 3 e 6 gradi e le massime di domani stazionarie comprese tra 6 e 11 gradi. Per il meteo è tutto buon proseguimento di serata. Grazie. 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 Grazie.